Buonasera agli amici di Spazio Aperto, eccoci pronti per una nuova trasmissione su Radio Science. Quest'oggi abbiamo un graditissimo ospite per Giorgio Caria che i nostri ascoltatori già conoscono perché abbiamo più volte avuto degli incontri con lui. Prima di iniziare però a parlare con il nostro amico ricercatore, vi passo la parola all'amico Ugo Moreno per salutare il network. Prego Ugo. Ti ringrazio Ugo, io come sempre saluto tutto il condominio di Radio Science, compreso ovviamente il nostro ospite. Ormai, come dico sempre, da diverso tempo a questa parte, Radio Science si avvale della collaborazione di diverse web radio, che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Molderani Radio e poi, come mi piace dire a me, per così dire, le ultime tre che sono appunto Radio Amber, Radio Anche e Radio Indy. Ci si può seguire sulla nostra pagina Facebook di Radio Science, la chat è comunque sempre aperta, rispondiamo in tempo reale, come anche sul nostro sito al www.radioscience.it, anche lì la chat è aperta e come sempre si risponde nell'immediato subito. Il nostro media center, come già da un po' di tempo a questa parte, è da qualche mese ormai attivo, quindi si può tranquillamente recuperare, come dico ogni tanto, delle puntate che si sono perse, tutto ciò che passa su Radio Science. Basta entrare come ospite a login, basta inserire il nome ospite e come password non bisogna mettere nulla e si accede a tutto ciò che c'è al suo interno. Con questo è tutto, ti ripasso la parola Ugo. Bene, grazie Ugo. Intanto risalutiamo il nostro ospite, come va Pier Giorgio? Ciao Ugo, un saluto a tutti. Benvenuto fra noi, grazie per essere. Grazie, grazie Ugo. Un saluto a te e a tutti i radioscoltatori. Grazie. Bene, oggi facciamo un argomento che è caro, credo un po' a tutti quanti, ma di qui se ne parla sempre meno, ma è sempre più interessante. Cioè, è un argomento che riguarda la scienza dello spirito, insomma, una nuova era che la legge cosmica, credo, voglia farci capire a noi terrestri che siamo piuttosto duri di comprendonio. Esatto. E già Giordano Bruno, correggimi se sbaglio, aveva auspicato quindi la venuta dell'uomo nuovo. E magari abbiamo avuto anche molti casi che ci hanno aiutati, magari o hanno cercato di indurci a fare delle riflessioni molto più così profonde rispetto alla superficialità del corpo. Però è, diciamo, imperiosa la necessità di trovare spiegazioni diverse, che non siano solo quelle della percezione cutanea oppure dello sbattimento della testa vicino a qualche ostacolo. E quindi ci ritroviamo a parlare dello spirito. Ma Pier Giorgio, ecco, ti faccio già la prima domanda perché so che l'argomento è lungo, quindi entriamo subito in argomento. Se è vero che il corpo quando manda segnali, quando ha sete, manda segnali quando ha fame, manda segnali quando ha freddo oppure quando ha caldo, insomma ci sono dei segnali termoregolatori e altro. Quali sono i segnali che manda lo spirito per le sue esigenze? Ma i segnali che manda lo spirito, Ugo, è quello che vive intorno a noi, scusa, internamente a noi. Lo spirito ci manda segnali che poi vengono trasmessi alla parte emozionale o anima a che dirsi voglia e poi alla parte fisica. Quindi un disagio, c'è una sofferenza che vive lo spirito, si ripercuote poi nel nostro stato morale e se questo disagio permane per molto tempo avviene quel fenomeno che noi chiamiamo malattia, che non è altro che l'espressione di una causa che dall'interiore poi si manifesta nell'esteriore e che il corpo ci segnala. Vai a vedere che cosa ti sta accadendo, qual è la causa che poi provoca questa situazione. Bene, ma questo è l'argomento principale di cui dovrebbe interessarsi la scienza dello spirito. Ma l'uomo è in grado di capire di che malattia soffre, è in grado di capire quando c'ha fame basta il sufficiente mangiare e soddisfa la sua esigenza, ma quando sta male non capisce perché è in grado di farlo. Ma questo Ugo, intanto dobbiamo fare un ragionamento a monte perché parlando così stiamo ragionando nell'ambito di quella che è l'ambito degli effetti, ma dobbiamo parlare dell'ambito delle cause. Ora ovviamente la scienza ortodossa non accetta nient'altro che non sia l'aspetto materiale dell'essere umano, però ormai siamo sufficientemente avanzati a livello di ricerca per quanto riguarda scienze come la fisica quantistica per arrivare a capire dei fatti che sono non dei fatti di tipo spirituale o di tipo iniziatico, esoterico, eccetera, eccetera, ma sono dei fatti che strumentalmente noi possiamo oggi riscontrare, per cui oggi si sa benissimo ad esempio che l'emanazione energetica a livello di campo magnetico del cuore è molto più potente di quella del cervello, vi do due cifre così possiamo un attimo ragionare. Il cuore da un punto di vista di potenza elettrica è 100 mila volte più potente del cervello, magneticamente è più potente 5 mila volte e il cuore contiene tra le 40 mila e le 50 mila cellule nervose, cosa possiamo quindi dire con questo? Possiamo dire che l'essere umano non è meramente materia biologica, è anche materia energetica, perché questi dati sono dati riscontrabili attraverso delle misurazioni scientifiche, quindi se all'interno dell'essere umano oppure se la componente dell'essere umano non è solo materia biologica ma anche materia energetica e quindi invisibile, credo che un qualsiasi ragionamento nell'ambito di ciò che è la salute dell'uomo dovrebbe essere fatto attraverso anche una scienza di questo tipo. Vi leggo ad esempio un altro articolo scientifico che dice così, leggo testualmente, l'attività elettromagnetica che avviene all'interno del corpo umano crea un unico personale ma modificabile campo elettromagnetico che contiene un'enorme quantità di informazioni, queste vengono trasmesse anche con l'esterno, si è scoperto inoltre che l'energia elettromagnetica irradiata dall'uomo è in relazione diretta con la salute, la vitalità e le reazioni emozionali, quindi uno scarso livello energetico corrisponde poi a tutta una serie di ripercussioni che sono in questo caso, come dice chiaramente l'articolo, sia nella materia biologica ma anche sia nella parte emotiva dell'essere umano e dice ancora quest'articolo, il corpo umano è un trasmettitore, ricevitore di campo elettromagnetico che viene emesso e modulato con una banda che va da circa 1,5 a 9,5 megahertz e quindi è stato misurato. Da recenti studi di fisica quantistica si è arrivati a capire che la banda del corpo umano non è solo nell'intorno delle onde corte 1,5 a 9,5 megahertz, questa è quella relativa all'emissione di campo elettromagnetico generato dalle cellule e dagli organi, ma si estende in realtà quindi la fascia energetica che l'essere umano emette almeno fino alla banda di emissione della luce, oh cavolo, banda di emissione della luce, ma scusate ma i mistici da migliaia di anni non ci dicono esattamente la stessa cosa? Quindi io a questo punto Ugo se me lo permetti farei un ragionamento, molto diciamo così tecnico visto anche io come formazione professionale sono un tecnico, come tu ben sai per tanti anni ho lavorato nelle ferrovie dello Stato. Allora, se io prendo in esame un computer, un portatile per esempio, ho in mano l'espressione di una delle scienze più avanzate che attualmente usiamo, giusto? Sì. Ecco, talmente avanzata che il computer fino a pochi decenni fa era inimmaginabile che un computer domestico potesse arrivare a un livello di capacità di calcolo come i normali PC che usiamo quotidianamente arrivano. Allora, questo computer io posso averlo perfettamente strutturato, nuovo di zecca in tutta la sua parte hardware e software, ma se io non ci ficco dentro l'energia elettrica, questo computer non vive, non funziona. Per cui, facendo un paragone, possiamo dire che tolta l'energia elettrica, quel computer è morto, non funzionerà mai. Per cui, quando il computer è morto, per farlo vivere, bisogna conoscere ovviamente le leggi di questa energia invisibile che nessuno ha mai visto, che si chiama energia elettrica, nessuno ha mai visto l'energia elettrica, ne misuriamo o ne vediamo gli effetti dell'interazione dell'energia elettrica con la materia, come nessuno ha mai visto un campo magnetico, ma non perché è invisibile il campo magnetico una volta che noi ne abbiamo capito, le leggi non è in grado di produrre tecnologie, infatti abbiamo la televisione, abbiamo tante altre cose che sono prodotte con le leggi che noi abbiamo scoperto di energie invisibili, quindi se le leggi di un'energia invisibile chiamata energia elettrica ci permettono di far funzionare un computer che muore se io la tolgo, ma scusate, è ovvio che sono scienza tutte e due, scienza è l'energia elettrica, scienza è la parte hardware, ora perché l'umanità da migliaia di anni accetta una cosa così sciocca come il fatto che io come corpo sono scienza, come spirito sono un credo, ma se io sono lo spirito intelligenza, l'energia energia viva, vivificante che attiva la materia biologica chiamata corpo, senza la quale energia questo corpo va in disfacimento, non sarà ora di capire che anche la parte spirituale va vista solo ed esclusivamente da un punto di vista scientifico, visto e considerato che la scienza stessa non solo ci dice la misurazione del campo elettromagnetico emesso dal corpo umano, ma ci dice che l'emissione di campo si estende molto più su fino ad arrivare alla banda di emissione della luce, quindi noi siamo soggetti a leggi sia nell'aspetto materiale e sia nell'aspetto spirituale e faccio ancora un altro ragionamento, noi sappiamo benissimo che i vari gruppi religiosi del mondo spesso in nome dei loro credo arrivano ad ammazzarsi o comunque a perseguitarsi, giusto? È un fatto storico questo, no Ugo? Sì, sì. Ora, io vorrei capire, se questi credo avessero un minimo di fondamento, io chiederei alle persone, mi sapete spiegare perché i cattolici nascono, crescono, invecchiano e muoiono, gli islamici nascono, crescono, invecchiano e muoiono, i buddhisti nascono, crescono, invecchiano e muoiono, gli induisti nascono, crescono, invecchiano e muoiono, peggio ancora, gli atei nascono, crescono, invecchiano e muoiono, quindi la natura stessa ci dimostra che i credo religiosi cosa sono? Se tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, poi i bianchi nascono, crescono, invecchiano e muoiono, i gialli nascono, crescono, invecchiano e muoiono, i rossi nascono, crescono, invecchiano e muoiono, i neri nascono, crescono, invecchiano e muoiono, i ricchi nascono, crescono, invecchiano e muoiono, i poveri nascono, crescono, invecchiano e muoiono prima, perché sono poveri, però questo è un fatto a parte, quindi se la natura ci dimostra al di là di ogni dubbio che tutta l'umanità, a prescindere dai credo, è soggetta allo stesso tipo di legge, ma mi spiegate che c'entrano i credo religiosi nella forma in cui la tradizione e l'istituzione fino a oggi ce li hanno portati, non sarà ora di capire che c'è qualcosa che non quadra in certi dogme, visto che la natura non solo è la natura dell'essere umano, ma tutti i regni dotati di vita, quindi il regno animale e il regno vegetale, seguono esattamente lo stesso iter, tutti i regni viventi nascono, crescono, invecchiano e muoiono, quindi è ora di capire che la spiritualità deve cessare di essere un credo e deve essere investigata con le stesse metodologie scientifiche, perché se io sono lo spirito eterno temporaneamente incarnato in un corpo umano e non conosco le leggi alla quale sono assoggettato in quanto energia vivificante di un corpo, allora la mia vita sarà un caos, guarda caso, guarda caso, tutti gli ambiti dell'essere umano di qualsiasi razza, di qualsiasi credo religioso, di qualsiasi condizione sociale è un caos, perché? Perché l'essere umano di questo mondo è una specie di pazzo scatenato che si compra l'automobile, non la sa guidare, non conosce il codice della strada ed è continuamente che va da un incidente all'altro, quindi noi non conosciamo le leggi e se non conosciamo le leggi a cui siamo assoggettati non solo come corpo, ma anche come spirito, perché io sono lo spirito intelligenza che vivifica temporaneamente questo corpo, quindi a un certo punto questa, chiamiamola così, elettricità intelligente va via dal corpo umano e noi diciamo Caria è morto, ma non è morto Caria, Caria ha cambiato stato, prima era nel corpo, dopo un po' è fuori dal corpo, il che questo discorso tende a un altro fatto abbastanza serio, ora le persone vivono come se non dovessero mai morire, ma noi tutti dobbiamo morire e nessuno ha un minimo, uno straccio di atteggiamento progettuale in relazione alla propria morte, andiamo un po' così come un tiro di dadi, ma vi sembra una cosa logica? migliaia di anni che l'uomo non dà una risposta seria a un problema palese e gravissimo che genera una marea di sofferenza a causa dell'ignoranza in questo ambito che è il problema della morte, tutti moriamo tra 200 anni, compresi i bambini che stanno nascendo adesso, saremo tutti morti, quindi sarà il caso di dare una risposta scientifica a un fatto universale che non è soggetto ai credo, non è soggetto alle razze, non è soggetto alle condizioni sociali, ergo è un fatto scientifico, c'è questa legge che governa gli esseri umani e tutti i regni viventi e di natura, noi dobbiamo capire che cos'è, perché se no la nostra vita è un tiro di dadi e noi non sapremo mai a che cosa stiamo andando incontro, ma se non sappiamo a che cosa stiamo andando incontro, Ugo, noi abbiamo un problema grave, perché non possiamo progettare la nostra vita in relazione a ciò che è la nostra vera realtà spirituale che è scientifica e non è certo un credo, quindi mi sembra un discorso molto serio, dico un'ultima cosa e poi ti lascio la parola, Ugo, io tengo varie conferenze e quindi questi discorsi li faccio spesso alle persone, perché dal mio punto di vista è una delle ragioni principali del gravissimo caos e del gravissimo stato in cui si trova oggi l'umanità moderna, soprattutto nel momento in cui stiamo rischiando di nuovo una tremenda contrapposizione tra l'Occidente dotato di armi nucleari e l'Oriente dotato di armi nucleari, ed è questo, noi dobbiamo chiedere, noi dobbiamo decidere assolutamente di investigare in questo campo, è un esempio che io faccio per far toccare con mano alle persone questa condizione, è un esempio facilissimo, tutti sappiamo che abbiamo un debito pubblico, ha superato ormai 2.400 miliardi, giusto? Sì. Perfetto, allora noi nelle televisioni e nei media, che sono in mano solo a sei potentissimi gruppi mondiali, intendo i media massivi, di certo Radio Sayuz che mi permette di fare questi discorsi, è sicuramente libera, questi discorsi nei grandi media non te li fanno fare. Allora io chiedo alle persone, l'ho fatto anche domenica, ero a Bologna, c'erano alcune centinaia di persone in sala, ho detto amici cari, voi tutti sapete sicuramente che abbiamo un debito pubblico, giusto? Sì, certo che lo sappiamo, benissimo, voi mi sapete spiegare tecnicamente, secondo la logica economica, perché abbiamo questo debito pubblico? Sai quante persone lo sapevano in sala? Una, una persona, un giovane ha alzato la mano, io lo so, ecco in mezza centinaia di persone uno solo sapeva la vera causa del debito pubblico che è l'Italia, sono 2.400 miliardi di Euro, ora io ho detto, ma scusate amici miei, senza soldi in questo mondo non si vive, non si mangia, non ci si cura, non si paga la casa, cioè praticamente puoi solo morire se non c'hai soldi, ma voi come sperate di uscirne da questa gravissima crisi, perché avete un debito, abbiamo un debito e non ne conoscete la natura, a ergo non siete in grado di gestirlo? Siete falliti? Non avete nessuna speranza, perché se voi avete un debito pubblico e avete quindi un debito personale gigantesco che ogni anno ci costa un sacco di miliardi, ma se non sappiamo da dove viene, non sappiamo come si rigenera, non sappiamo nonostante tutti i politici che sono andati al governo promettendoci che l'avrebbero risolto, invece aumenta sempre, ma scusate, voi sperate davvero di uscire da questo problema, o faremo tutti la fine di tutti quegli imprenditori o operai che hanno perso la ditta e lavoro e si sono suicidati, siamo dei falliti al 100%, deve solo arrivare il nostro turno. Lo stesso discorso quindi lo possiamo girare al discorso della scienza dello spirito, se noi non sappiamo perché esistiamo, non sappiamo come funzioniamo, non sappiamo che il destino ci aspetta dopo la morte, fosse anche il nulla eterno, mi vuoi spiegare come possiamo avere successo nell'espressione della nostra vita e con questo ti ridò la parola. Grazie, grazie Pio Giorgio, infatti io ti volevo chiedere e ti chiedo, eppure questo vituperato corpo serve per conoscere la presenza dello spirito e grazie al corpo che dovremmo individuare la presenza dello spirito all'interno del contenente. Il cervello è solo il cervello, il cuore, gli organi sono dei riverberatori dell'attività dello spirito, ma l'idea nasce nello spirito e lo spirito che ragiona, infatti quando l'uomo muore con sua grande sorpresa scopre, uomo intendo uomo donna, essere umano, non sono sessista, sia ben chiaro, quando l'essere umano muore con grandissima sorpresa e stupore scopre che può vedere senza occhi, può ascoltare senza orecchie, può pensare senza cervello, quindi l'uomo quando muore scopre che le attività che lui pensava risiedessero negli organi del corpo, in realtà gli organi del corpo erano solo dei riverberatori della sua attività, quindi noi non siamo gente che ha uno spirito, noi siamo lo spirito che temporaneamente ha un corpo e siamo lo spirito eterno, lo spirito che dà la vita, ora se lo spirito dà la vita, il suo potere è dare la vita, quindi il spirito non può morire manco se volesse perché è ciò che dà la vita, è come dire che un giorno magari il fuoco bagna, la natura del fuoco è quella di bruciare, quindi il fuoco non può far altro che bruciare, per cui la vita non può far altro che vivere, non può morire la vita, può morire ciò che la vita ha vivificato nel momento in cui la vita esce da quella gente e quindi nel momento in cui noi moriamo, cioè il corpo muore, ma non io, io spirito eterno non muoio, cambio semplicemente stato, cioè rientro in quell'ambito invisibile dal quale sono uscito per manifestarmi temporaneamente con un corpo, quindi questi non sono discorsi di credo Ugo, perché noi siamo legati al corpo, noi e il corpo siamo un'unicità, quindi non è possibile che ancora noi accettiamo che il corpo sia scienza e lo spirito un credo. È ovvio che le religioni istituzionalizzate si oppongono a questa rivoluzione, ma l'articolo scientifico che vi ho letto prima dimostra chiaramente che oggi la scienza usa e si esprime con gli stessi termini a cui ci hanno abituato i mistici da migliaia di anni. Quindi la definizione cartesiana mens sana in corpore sano potrebbe ancora essere valida? Mens sana in corpore sano in spirito illuminato, perché se lo spirito è deficiente e ignorante la sua vita sarà un macello e non ci sarà né mente sana né corpo sano. Ora, io dalle mie indagini di ricercatore so che la classe ambiente che domina il mondo è profondamente criminale, è profondamente malata, perché sta conducendo l'umanità verso un baratro irreversibile. Faccio una domanda a me stesso e a voi carissimi amici, perché noi spendiamo circa, sono solo i conti quegli ufficiali, ma in realtà è molto di più, 1500 miliardi di dollari all'anno in armi e invece perché non spendiamo questi 1500 miliardi di dollari all'anno per fare del pianeta Terra un bellissimo villaggio vacanza? Non vi sembra un po' una follia l'atteggiamento e la visione della vita dell'uomo di questo mondo? Invece di spendere per il bene, invece di spendere per la pace, invece di spendere per abbellire questo meraviglioso pianeta che ci ospita, noi non solo ci uccidiamo tra noi, ci sfruttiamo tra noi e stiamo uccidendo questo pianeta, è una follia, quindi bisogna accettare che questa vita che noi accettiamo oggi come normale è una vita fuori di testa, di gente malata in maniera pesante a livello mentale, se diamo per scontato che sia lecito vivere con la minaccia di 20.000 attestate atomiche sulla testa. Ti cito un fatto che rileggevo ieri sera, a fine anni 60 una razza extraterrestre contattò un importante uomo d'affari olandese, era un businessman di una multinazionale dell'automobile. Gli extraterrestri fecero vedere a questo signore che si firmò nel libro che racconta la sua storia dal nome di Stefan De Naerde, ma in realtà si chiamava Adrian Bers ed era, ribadisco, facente parte del consiglio di amministrazione di questa grossa multinazionale. Questi esseri fanno vedere la meravigliosa organizzazione che loro hanno nel loro pianeta, grande quattro volte la Terra e con una popolazione di 300 miliardi di abitanti all'epoca. Gli chiedono questi extraterrestri ad Adrian Bers, ci puoi spiegare come voi riuscite a vivere tranquilli nonostante la minaccia di migliaia di armi nucleari? Adrian Bers, abbastanza imbarazzato, dice che vi posso dire qualcosa con cui ci siamo abitati a convivere perché non si può cambiare. Gli extraterrestri lo guardano, non si può cambiare, ma questa è una follia, perché se voi avete preso una decisione di spendere cifre spaventose per costruire armi che vi possono sterminare dalla faccia dell'universo, mi spieghi perché non prendete una decisione contraria? Se ciò che voi state vivendo deriva da una decisione umana e non da un fatto derivante dalla legge naturale, tipo la gravità, hai voglia tu a dire che non ci credi nella gravità, se ti butti dal quarto piano finisci sfrascellato. Quindi se è una decisione umana, dove sta il problema di cambiare questa decisione verso una decisione più saggia e più sicura? E il povero Adrian Bers non sa dare una risposta, avete ragione voi, si vede che abbiamo la testa un po' messa male. Quindi noi oggi accettiamo come dato di fatto che uomini opprimano altri uomini addirittura mettendo a rischio l'esistenza stessa dell'umanità. Ma ne ha pazzia? Non esistono le istituzioni, non esistono gli stati, qualcuno di voi ha mai visto in giro il signor Stato? Qualcuno di voi ha mai visto in giro il signor Cia? Qualcuno di voi ha mai visto il signor Sisde? Sono uomini, le istituzioni sono nomi, ma esistono perché c'è l'uomo, l'uomo è lente al vertice della creazione, senza l'uomo non esista nulla, senza l'uomo non c'è il denaro, senza l'uomo non c'è il valore, senza l'uomo non esistono gli stati, senza l'uomo non ci sono istituzioni, quindi il problema non è un problema istituzionale, il problema è il problema della testa baccata che abbiamo noi uomini, non abbiamo istituzioni che perseguitano uomini, abbiamo uomini che perseguitano altri uomini, questa è la realtà dei fatti, invece la coercizione, la manipolazione della nostra testa ci fa credere in cose che sono veramente pazzesche e allucinanti nella demenzialità. Noi non abbiamo a che fare con istituzioni, abbiamo a che fare con altri uomini, è l'uomo che si confronta con l'uomo, quindi bisogna prendere in mano questo problema, analizzarlo razionalmente e modificarlo, perché è un fatto umano. Scusami, scusami se ti interrompo, quindi viene una conclusione, bisognerebbe poter diffondere la scienza dello spirito negli istituti di studio, di ricerca, dovremmo incominciare a studiare la scienza dello spirito. Il problema, Ugo, è che queste cose, così come quella estrapolazione di quell'articolo scientifico, già ci sono, ma la massa questa informazione non arriva, cioè esiste, la si può trovare nei libri e su internet, ma la massa che ascolta solo ciò che i media, bugiardi, traditori, venduti ai potenti del mondo ci dicono, vivono una realtà che non esiste, come il denaro. Ma scusate, il denaro è un fatto umano, non esiste l'albero degli Euro, l'albero dei dollari. Mi puoi spiegare perché un ente umano come il denaro, e io devo accettare che qualche pseudo presidente di qualche banca o qualche pseudo esperto di economia mi dica, abbiamo una crisi del denaro, non c'è denaro, ma è come se un ingegnere stradale mi dica, non possiamo più fare le strade perché ci siamo finiti i chilometri, o un sarto che mi dice, non possiamo più fare abiti perché non esistono più metri, ma che discorso è? Il denaro non è ricchezza, è solo una misura della ricchezza, quindi se c'è scarsità di denaro è perché chi ha in mano la produzione del denaro fa in modo che esista una crisi per fini specifici. Questo dobbiamo capire, ma ormai nella nostra testa sono stati inseriti a fuoco vivo certi dogmi dal quale non riusciamo a disancorarci nonostante ci stiano facendo morire, nonostante ci facciano soffrire, quindi se l'istituto denaro funziona male, produce estrema ricchezza e estrema povertà, ma cambiamolo, il denaro è un fatto umano, peggio ancora il denaro dell'istituto di diritto pubblico è stato fatto diventare istituto di diritto privato perché sugli Euro adesso c'è il simbolo di copyright, ma non se ne è accorto nessuno, quindi se noi che pensiamo di essere tanto saputi e ci mettiamo a ridere in una maniera supponente, saccente, quando sentiamo qualcuno che parla di UFO, poi non conosciamo manco l'anora del denaro o del debito pubblico, ma mi vuoi spiegare come siamo combinati? Infatti per Giorgio i detrattori di tante verità che ci sono nascoste sono quelli cui tu accennavi prima quando parlavi dell'informazione nelle mani di pochi, piuttosto che l'informazione corregimi, scusate un po' la passione con cui parlo Ugo, dicevi per Giorgio scusa? Scusate la passione, forse magari quello di... No, anzi io mi appassiono per te ad ascoltarti, per cui credo anche i nostri ascoltatori abbiano lo stesso trasporto. Ecco, dicevamo prima l'informazione, parlerei più, forse sarebbe più logico parlare di disinformazione, la disinformazione è quella che ormai regna la comunicazione che ci viene data. Io la chiamerei manipolazione dell'informazione. Manipolazione, quindi dovremmo essere in grado di riprendere la consapevolezza, ma anche in mano le redi dell'informazione, ma il popolo è così eterogeneo, è così anonimo, è così variegato, dovrebbe esserci... Io credo di no Ugo, il popolo non è così anonimo e variegato, il popolo è molto uniformato, io giro il mondo per fare ricerca e divulgazione, quindi sono stato nei cinque continenti, bene, dappertutto se parli di UFO la maggioranza si mette a ridere, dappertutto se parli di soldi tutti reagiscono allo stesso modo, dappertutto se parli di sesso ti reagiscono allo stesso modo, quindi non c'è tutta questa grande varietà. Io penso e vedo e vivo che in realtà i concetti di base della vita sono molto ben orientati nel nostro mondo, questo perché l'informazione massiva, pervasiva che ormai raggiunge tutti gli angoli della terra è riuscita a orientare la mente degli uomini sugli stessi valori, quindi io vado in Peru e vedo gli stessi programmi che ci sono in Italia, vado in Messico, vedo gli stessi programmi che ci sono in Italia, vado negli Stati Uniti, vedo i programmi da cui gli italiani hanno copiato, ecco c'è questa lieve differenza, quindi oggi il sistema mondiale ha uniformato e unificato i concetti e i principi ai quali tutti facciamo riferimento per le nostre vite, quindi questo significa che se noi ci riappropriamo dell'informazione noi possiamo riorientare la visione della vita degli esseri umani e portarla verso una situazione di benessere, non esiste un ente esterno che ci faccia stare male, noi stiamo male perché non siamo in grado di gestire una parte di umanità che si è arrogata il diritto di dominarci, ma non è perché loro hanno il diritto, è perché noi li lasciamo fare, c'è qualcuno che fa le leggi e c'è qualcuno che le subisce, ma fa davvero delle leggi? Può domani il Parlamento italiano riunirsi e fare una legge che non si invecchia più? Non possono farla, quindi quello che fanno gli uomini non sono leggi, sono decreti, sono norme, sono codici, sono regolamenti, ma le leggi sono al di sopra dell'uomo, ne condizionano l'esistenza, quindi le supreme leggi che regolano la nostra manifestazione e la nostra disincarnazione, noi le dobbiamo conoscere per capire chi siamo, per capire perché esistiamo, per capire come gestire questa esistenza in vita, ma la vita, scusate, cos'è? Solo guadagnare dei soldi per far mangiare un corpo che poi va a sedersi su una tazza o c'è qualcosa di più prezioso e nobile nell'esistenza dell'essere umano? Ma se noi accettiamo che altri esseri umani siano più umani di noi, la cosa non va bene e gli avatar, i maestri spirituali, compreso Cristo ce l'hanno detto, siete tutti uguali di fronte a Dio, quindi perché noi accettiamo di essere schiacciati, manipolati, sfruttati da istituzioni, cioè da uomini che si arrogano il diritto di decidere per le nostre vite? Ma perché noi diamo il consenso, quindi dobbiamo riappropriarci di ciò che sono i nostri diritti ed esercitarli, io non ho bisogno di chiedere a uno di esercitare i miei diritti, se io ho dei diritti li esercito e basta, non devo andare in piazza con i cartelli a chiedere a un politico che mi ha tolto i diritti, ma gliel'ho perso io col consenso, quindi non gli devo chiedere i diritti, fare la protesta a favore della testa, semplicemente devo riorganizzarmi in modo da esercitare i miei diritti, punto. Ma questa è una trasformazione epocale della mente dell'essere umano, c'è bisogno di spiegazioni, c'è bisogno di conoscenza, c'è bisogno di supporto didattico e purtroppo questo non c'è, anzi a proposito voglio ricordare che proprio nell'ambito del reame della scienza dello spirito di cui gli esseri extraterrestri ci hanno dato estensissime basi fino a spiegare la natura non solo dell'essere umano e della creazione, ma persino della divinità. Io fornisco a chi me ne fa richiesta 18 libri in formato elettronico che aiuteranno le persone, garantisco io sulla genuinità di questi testi perché sono stati le basi fondanti di della mia preparazione su queste tematiche complesse, affascinanti e preziosissime che ci aiutano a riprenderci in mano il nostro potere personale, chi me ne fa richiesta a info-piergiorgiocaria.it glieli fornisco gratuitamente in formato elettronico. Prego Ugo. Benissimo, dunque sembra però che ci stiamo spostando verso la costellazione dell'acquario. Assolutamente sì. Ecco, questo spostamento Pio Giorgio potrebbe darci una mano a comprendere meglio verso la verità, verso la conoscenza. Sì, assolutamente Ugo. Allora, noi abbiamo vissuto per circa 2000 anni nell'era dei pesci. L'era dei pesci è stata contraddistinta da due valori dominanti che sono la fede cieca e il dubbio. Dalla fede cieca sono scaturiti sistemi oppressivi che ancora ci opprimono, dal dubbio è scaturita la scienza che i sistemi oppressivi stanno cercando, con notevole successo, ma non totalmente, stanno cercando di dominare, impedire che la scienza raggiunga lo scopo della sua stessa esistenza che è quella di svelare i misteri della creazione, compresi quelli dell'essere umano. Quindi l'era dei pesci, ribadisco, è stata dominata da questi due valori, infatti il simbolo dei pesci sono due pesci in contrapposizione, uno guarda a sinistra, uno guarda a destra, però questa è anche una coppia di forza che genera un movimento. Se noi la vediamo, se vediamo il simbolo dei pesci, sono due frecce, possiamo vederli due frecce che spingono e quindi fanno generare un movimento. Ora, per chi non lo sapesse, magari in questo momento sta pensando, ma queste sono solo fesserie astrologiche, io vorrei spiegare che l'astrologia si basa sulla scienza, cioè la Terra nel suo movimento di rivoluzione intorno a se stessa, praticamente nell'arco di circa 25.800 anni disegna un cerchio immaginario nel cielo. Questo movimento della Terra fa sì che il Sole sorga con dietro una costellazione per circa 2000 anni, quindi man mano che la Terra sposta o diciamo a causa di questo movimento che si chiama precessione degli equinozi, attraverso il movimento di precessione degli equinozi, pian piano noi entriamo in una costellazione e ne usciamo. Ora, noi stiamo di fatto usciti dalla costellazione dei pesci e la mattina il Sole sorge con dietro la costellazione dell'acquario. Il cosmo sappiamo che ha influenza sulla realtà fisica, da questa conoscenza non solo è scaturita l'astrologia, ma sono scaturiti anche delle scienze reali, ad esempio il grande ricercatore nell'ambito della scienza dello spirito, Rudolf Steiner, da queste conoscenze ha creato la biodinamica a livello agricolo e la zoodinamica per quanto riguarda l'allevamento degli animali. Tra i miei vari amici, io ho un agricoltore biodinamico che si chiama Alfredo e che se sta ascoltando lo saluto, ormai parlo sempre di lui, domenica ce l'avevo pure in sala. mi ha detto che lui applicando la conoscenza del potere degli influssi cosmici sulla vegetazione, ha realizzato il 30% di produzione in più rispetto agli agricoltori che usano la chimica classica, cioè veleni e concimi. 30% è tanto, non solo, usa molto meno combustibile e spende molto meno per i prodotti, quindi questo dimostra che il cosmo ha influenza sulla natura e lo stesso discorso si può applicare parallelamente alla zootecnia. Quindi se il mondo vegetale e il mondo animale è influenzato dalle forze cosmiche, è ovvio che anche l'essere umano è influenzato dalle forze cosmiche, questo lo vediamo ad esempio nel mestruo della donna che è regolato dalle fasi lunare, ogni 28 giorni che è una fase lunare c'è il mestruo della donna, quindi noi siamo uniti al cosmo, per cui abbiamo subito questo influsso dell'era dei pesci che, ribadisco, nella condizione dell'umanità ha prodotto sistemi ortodossi con la fede cieca, basta pensare all'inquisizione che per cento anni ha regnato con terrore in tutta l'Europa e dal dubbio scaturisce la scienza. L'era dell'acquario invece cambia l'influsso cosmico ed è l'era dell'acquario, l'era della conoscenza che è simboleggiata da questo uomo, uomo-umanità, quindi uomo evoluto che versa acqua, l'acqua è il simbolo della conoscenza, della sapienza, ma se noi andiamo ad analizzare la parola conoscenza, vediamo che ad esempio togliendo la o diventa con scienza, quindi conoscenza, con scienza, se togliamo anche la n diventa con scienza, quindi conoscenza, con scienza, con scienza, quindi noi attraverso la scienza arriviamo alla conoscenza, la conoscenza ci dà il dominio dei regni naturali, il regno dello spirito non è un regno sopranaturale, è un regno naturale, oggi possiamo dirlo anche dell'elettricità e dell'elettromagnetismo, un regno naturale non è un regno sopranaturale, l'abbiamo chiamato sopranaturale quello dello spirito perché ancora non abbiamo strumenti che ci permettono di investigare nel reame di quelle elevatissime energie, ma come può essere se l'uomo è fatto di anima, corpo e spirito, lo spirito è un regno sopranaturale, ovvio che non è sopra la natura, ma fa parte della natura, quindi dobbiamo attraverso gli influssi e le parole che scaturiscono oggi anche da persone come me comprendere che l'uomo per risolvere gravissimi problemi che vive attualmente l'umanità deve riaffrontare e modificare la visione di se stesso e della creazione nella quale si manifesta e lo può fare solo ed esclusivamente attraverso un atteggiamento scientifico, quindi con i credo e con i sistemi di fede cieca, i sistemi ortodossi che sono oppressivi, non ti permettono di pensare liberamente, noi ne dobbiamo uscire e dobbiamo entrare finalmente nell'era della vera conoscenza attraverso la scienza che ci darà una nuova coscienza. Infatti Pier Giorgio, credo tu abbia affermato e continui a farlo, che il nostro Signore Gesù Cristo predica le leggi e non le religioni, che significa questo? Lo cito, andiamo a Matteo 5, versetti 17 e 20, il Signore dice, non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto per abolire ma per dare compimento, in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un'aiota o un segno della legge senza che tutto sia compiuto. Quindi Gesù ci dice che è il legislatore, lui è venuto a ripristinare la legge che si era corrotta grazie all'intervento dell'uomo nell'Antico Testamento e dice non solo la legge ma anche i profeti, cioè Cristo viene a rimettere ordine nella legge e a confermare le profezie. Infatti se andiamo a studiare il Vangelo troviamo che Cristo enuncia i comandamenti, ma non sono quelli classici. Ora purtroppo io credo che il Signore era talmente innovativo nella sua spiegazione teologica, cioè di scia dello spirito, io abolisco la teologia e mi appello alla scienza dello spirito, che la scienza dello spirito può essere verificata attraverso la riproducibilità dei fenomeni. Come abbiamo detto prima, tutti nasciamo, invecchiamo e moriamo, dalle piante all'animale all'essere umano, quindi esiste una legge. Ora, se io vado a fare uno studio dei comandamenti, vedo che nei tre Vangeli, tolto quello di Giovanni che è un Vangelo particolare, gli apostoli, o scusa, gli evangelisti, qualcuno se ne è dimenticato uno o più, ma mettendo insieme i tre Vangeli di Luca, Marco e Matteo, riusciamo a ricostruire i comandamenti e sono sette. Li leggo. Onora il padre e la madre, non uccidere, non commettere adulterio. Allora, io vorrei sottolineare che non commettere adulterio non riguarda solo la vita tra due e non adulterare, quindi noi abbiamo adulterato la terra, abbiamo adulterato l'acqua, abbiamo adulterato l'aria, abbiamo adulterato i rapporti tra gli esseri umani, questo è l'adulterio più grave che compie l'umanità. Poi abbiamo non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, ama il prossimo tuo come te stesso. Ora io forrei questa domanda, ma mi spiegate cosa c'è di religioso in questi sette comandamenti? Sono regole di buona società, non sono cose religiose, tra l'altro mi permetterei anche di ricordare che Gesù era laico, figlio di un carpentiere che è stato ucciso dalla classe sacerdotale di 2000 anni fa, quindi c'è tutto un ragionamento che dovremmo fare su questo. Quindi Cristo, che è il legislatore, ci viene a ricordare le regole che noi dobbiamo rispettare perché attraverso queste regole noi siamo in grado di fondare una società specifica che si ama, dove c'è la fratellanza, dove c'è la collaborazione e non la competizione che ci sta ammazzando. L'umanità è integrata col pianeta Terra, non è fuori dalla natura, l'umanità fa parte della natura, quindi se noi distruggiamo il pianeta ci stiamo suicidando, ci dobbiamo riappropriare di questi concetti che io direi quasi banali, ma ci siamo persi per strada, oggi il mito è avere successo, essere sexy, ma sono questi i veri valori? Domanda, è felice l'umanità con questi valori? Io vedo in giro solo gente infelice. Quindi il Signore è venuto a riportarci la legge, se poi andiamo a vedere Matteo 25, versetti 34, 40, quando Gesù parla con gli eletti, gli fa un discorsetto e gli dice, poi il re, che è Cristo, dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite benedetti dal Padre mio a prendere possesso del regno preparato per voi sino dalla fondazione del mondo. Perché? Che significa la fondazione del mondo? Significa che nel progetto di Dio erano già state stabilite termini e condizioni, leggi comprese, per uno specifico risultato che è il regno. Quindi Dio aveva il potere di fare un progetto, di applicare termini, leggi e condizioni e di determinarne la fine, qual è la fine del progetto di Dio, il nuovo regno e la felicità dell'umanità, ma ci sono delle regole che possono essere rispettate o non rispettate, questo è il libero arbitrio, ma aspettare o non rispettare queste regole comporta una responsabilità, perché sono leggi, non sono credo. Quelle che Cristo ci ha spiegato non sono dei credo religiosi, sono leggi universali. E continua il Signore. Regno preparato per voi sino dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi avete dato da bere, fui pellegrino e mi albergaste, ignudo e mi rivestiste, infermo e mi visitaste, carcerato e veniste a trovarmi. Al che gli eletti, i giusti, gli rispondono. Ma Signore, ma quando mai ti abbiamo visto affamato, carcerato, eccetera, eccetera? Non ti abbiamo mai visto. Ma Gesù gli risponde, ma quando avrete fatto questo a uno dei minimi, le mie l'avete fatte a me. Quindi, anche in questo passo del Vangelo, non c'è scritto, e se andate in chiesa, e se vi confessate, e se pregate, e se vi comunicate. Non c'è scritto questo. Anche qui il Signore parla di azioni sociali. Cioè, parla di una umanità solidaria, di una umanità dove chi sta bene aiuta chi sta male per raggiungere l'equilibrio. Perché nell'equilibrio non ci sono le guerre, non ci sono i contrasti. Quindi noi dobbiamo, alla luce della scienza dello spirito, che è nel Vangelo, che sì, anche parla della vita di Gesù, ma soprattutto il Vangelo parla della legge universale. Cioè, ci spiega come funziona l'universo, come funziona l'umano, in relazione alle azioni che produce. Cioè, causa-effetto. Io faccio un'azione, l'universo porta nella mia vita un effetto in relazione all'etica dell'azione che io ho fatto. Queste sono le leggi. Quando noi capiremo questo, Ugo, avremmo risolto i nostri problemi. Certo, infatti, noi abbiamo, anche nel campo della scienza, della medicina, stiamo passando, magari in maniera molto lenta, ma anche veloce, da una medicina teurgica, cioè implorativa, a una medicina un po' più, diciamo, attuale. Ricordo alcuni interventi fino a molto fa, molto tempo fa, erano fatti a guarire la ulcea dello stomaco, poi siamo riusciti a trovare un farmaco, farmaci che riescono quindi a guarirla senza intervento. Probabilmente riusciremmo a farlo meglio se fossimo più preparati sulla scienza dello spirito. Certo, adesso io nell'ambito medico, tante volte, ma nell'ambito medico, poi di fatto anche nell'ambito sociale, Ugo, sento persone dire che è morto di un male incurabile. Non esiste il male incurabile in una creazione regolata da una legge di causa ed effetto. Quindi il male incurabile è incurabile perché ancora non abbiamo capito le cause che hanno scatenato quel male. Ma se noi andiamo a rimuovere le cause che hanno portato a quel male, noi abbiamo risolto e debellato quel male. Cioè il male è l'effetto di una causa, non è una causa. E' l'effetto della causa. E' un effetto della causa, quindi noi dovremmo ragionare in tal senso. Non c'è niente di incurabile, c'è solo da studiare le cause e gli effetti. Come sempre il tempo, quando parliamo con te, il tempo scorre veloce. Non me ne sono accorto, è passata già un'ora. Ma io non posso offendere, anzi abbiamo bisogno dell'aiuto del nostro amico Massimo Bonella, che è direttore di PianetaOggiTV.net, a cui fra poco daremo la linea. Ma nel frattempo salutiamo e ringraziamo e abbracciamo il nostro carissimo amico Pier Giorgio Caria, a cui però dobbiamo stracciare l'impegno di un prossimo appuntamento, perché tanto le cose da dirci sono tantissime. Volentierissimo, Ugo, parlare di questi argomenti è importanti, sono innovativi, l'umanità ancora, io vedo il volto delle persone quando ascoltano questi discorsi, strabuzzano gli occhi e si rendono conto che questi sono valori e conoscenze importanti che ci possono aiutare a migliorare la nostra qualità della vita. Quindi benvolentieri parteciperò di nuovo. Bene, allora ti ringraziamo Pier Giorgio, ti auguriamo caramente e ti auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie Ugo, grazie Moreno, grazie a tutti, Massimo e i radioscoltatori, a presto, grazie. E diamo la linea, se la regia me lo consente, a Massimo Bonella che ci dovrebbe dare se ha le ultime informazioni. Intanto lo saluto, ciao Massimo. Buonasera a voi, sono le 19.26, siete collegati con la redazione di pianetaogitv.net, come sapete in stretta collaborazione con RST Radio Science TV. Dunque saluto anche il vostro ospite per Giorgio Caria, ricambio il saluto a cui auguro anche un buon lavoro perché credo che dare anche queste spiegazioni in giro per il mondo sia un lavoro di spessore, sia un lavoro abbastanza impegnativo, insomma non è facile. Ecco, dunque entriamo subito allora nelle anticipazioni del giornale radio Istria oggi. Dunque parleremo di Dignano, quarta sessione straordinaria, Assemblea dell'Unione Italiana. Poi bando per la presentazione di oggetti finanziati dalla regione Friuli Venezia Giulia. A seguire si arriva a Dimela Cantando e spiegheremo che cos'è. Poi ancora uno nessuno centomila, Olimpiadi di italiano. Poi ancora si prosegue con una notizia da Capodistria. Per quanto riguarda la nostra pagina online, la nostra home page pianetaogitv.net, a taglio primo, vi ricordiamo lo speciale RST Notizie, dove in studio c'è Rosario Moreno per la segna stampa delle notizie e il sottoscritto con un'intervista al vicepresidente dell'associazione Animalisti Italiani, ONUS. Abbiamo voluto farlo entrare in diretta perché c'è stata una situazione, una cosa gravissima a nostro avviso, perché questa associazione è stata minacciata a mezzo elettronico, diciamo sui social network, minacciata di morte. Per non parlare poi di teleoffese che sono arrivate. Quello che appunto a noi ci ha fatto saltare dalla sedia è perché insomma sono arrivate queste minacce di morte, ricordo in occasione perché è successo questo. Gli animalisti sono andati a fare una minata ecologica raccogliendo tutti i bossoli per terra che i cacciatori hanno lasciato, questo porcaio dovrei dire in maniera più, volendo usare un aggettivo più qualificativo. Ecco, e ovviamente facendo rumore eccetera, io dico meno male così tutti i volatili sono scappati via e quindi cosa è successo? Le ritorsioni sono state queste da parte di personaggi squallidi, minacce di morte all'associazione Animalisti italiani. Quindi noi abbiamo messo la notizia sulla home page come Breaking News e quindi poi l'intervista al vicepresidente dell'associazione. Bene, a questo punto alle 19.29 io restituisco la linea a Ugo Lombardi per la conclusione di Spazio Aperto. Noi ci sentiamo alle 45 con Istria Oggi, RST Istria Oggi. Prego Ugo. Grazie Massimo, mi dispiace, le notizie qualche volta le vorremmo un po' migliori, giusto per non avere queste notizie così cattive. Ugo, hai ragione, purtroppo, se noi osserviamo con una telecamera posta nello spazio e zoomiamo nei vari stati italiani, nei vari quartieri, troviamo questo che ho appena detto e altro ancora, forse anche, anzi sicuramente anche di peggio, perché quando si parla ad esempio di guerre, rumori di guerra, bocci di terza guerra nucleare, io credo di terza guerra mondiale, e quindi con l'uso di nucleare, ti lascio immaginare. Certo, certo. Ti ringrazio Massimo, grazie per la tua preziosa collaborazione. Io prima di passare e di chiudere la trasmissione e di passare la linea al nostro regista, vorrei ricordarvi che alle 22 abbiamo, ci ritornate qui in Sajus per l'Osservatorio Antimafia 2000. Condurrà la trasmissione Antonella in Trano con il sottoscritto. Adesso io credo che il nostro regista abbia bisogno di prendersi la linea. Ugo come va? Va bene, ti ringrazio. Allora, io saluto i nostri ascoltatori e ti ringrazio per la tua collaborazione e ci risentiamo, se per te va bene, alle 22. Certamente, mi accodo ai saluti anch'io, salutando ovviamente tutto il popolo di Radio Sajus, o meglio il condominio. E mi raccomando seguitici alle ore 22. Buona serata. Grazie, a più tardi. A più tardi. Grazie a tutti.